Il nostro personale è specializzato nei vari reparti di medicina, sia tradizionale che naturale ed è in grado di soddisfare le varie esigenze della nostra clientela. La mia figura all'interno della farmacia è stata così pensata in modo tale di poter essere di ausilio a tutte quelle persone che hanno a cuore la propria salute e il proprio benessere e che vogliono soprattutto anche lavorare in maniera preventiva. Sono specializzata in floriterapia di bacche australiana e quando le persone hanno qualsiasi tipo di dubbio, di disturbo o quant'altro hanno piacere a volte di essere consigliati anche sull'utilizzo di rimedi naturali che derivano dalla fitoterapia, dalla pariori con elementi, dalla floriterapia che è anche un mondo un pochino ancora poco conosciuto. Il laboratorio galenico rappresenta il nostro fiore all'occhiello. Qui sotto la mia supervisione lavorano due persone fisse. Siamo in grado di riprodurre i cosiddetti farmaci orfani, quelli non più prodotti dall'industria, oppure farmaci ad personam con formule e dosaggi per esigenze particolari. e anche integratori di largo consumo con un notevole risparmio economico. Siamo inoltre specializzati nella produzione di lozioni per la tricologia e per la dermatologia in generale. Siamo molto attenti all'apporto con il pubblico. Cerchiamo sempre di metterci dall'altra parte del bancone. E cerchiamo quindi di trattare le persone come vorremmo essere trattati noi quando entriamo in un esercizio commerciale. Io sono specializzata in varie tecniche di massaggio, in trattamenti tradizionali urvedici, che sono dei trattamenti di riequilibrio ovviamente sempre energetico, e fare proprio anche dei bei lavori di estetica con questi ultimissimi ritrovati, che sono dei peeling praticamente a base sempre di acidi della frutta, bioripitalizzazioni e stimolazioni, biosimolazioni cutanee, con l'utilizzo di alcune metodiche che sono quelle oggi diciamo più in uso, all'avanguardia. Possiamo parlare di elettroporazione, radiofrequenza, ultrasuoni e quant'altro insomma, che sono dei macchinari che in parte veicolano i principi attivi e le sostanze di cui noi oggi abbiamo a disposizione tantissime cose per fortuna e stimolano le nostre cellule a riprodurre le sostanze naturali di cui noi insomma siamo ovviamente ben forniti. La farmacia Nova Salus è quindi una farmacia improntata al consiglio naturale, sia omeopatico che fitoterapico. Grazie a tutti!